Fiuto qualcosa di nuovo! Ehi, simpaticona! Fiuto anche dispetti, però! Guarda, lo sai che ora Skygoo lo puoi mettere su quattro dispositivi? E ce l'ho anch'io! Sì, e tu lo sai che sincronizza anche i programmi da SkyQ? Così c'ho gli ossi a quei che lì! E tu lo sai che io ora mi scarico X-Factor, esco e quando torno ti spoilero tutto? Mamma! Skygoo mette tutti d'accordo! Quasi tutti! Fai felice tutta la famiglia con Skygoo! Perché da oggi lo associ a quattro dispositivi! Sincronizzi i programmi da SkyQ! Ed è incluso nel tuo abbonamento senza costi aggiuntivi! Provalo subito! Apri l'app!